ciao sono lucas cassa e vi do il benvenuto su race mode per chi non mi conoscesse sono un pilota di moto e un meccanico professionista ho iniziato a correre nel lontano 1999 partendo dalle piccole cilindrate diventando negli anni più volte campione italiano durante la mia carriera ho preso parte ai campionati del mondo super sport super bike e moto gp insieme al mio staff e gestisco da diversi anni questa officina specializzata nella preparazione delle moto da pista che si chiama punto moto corse oltre ad un team impegnato nei campionati nazionali velocità e una scuola di guida veloce che si chiama race mode riding academy ho pensato che sarebbe bello poter condividere con voi la nostra esperienza e dare una risposta chiara ai vari dubbi mettendo a disposizione di tutti i consigli e gli spunti che diamo quotidianamente ai nostri clienti per questo motivo ho deciso di mettere insieme tutte queste informazioni e creare questa rubrica su youtube chiamata appunto race mode qui da ora in poi affronteremo diversi temi che vi aiuteranno a capire meglio tutto ciò che riguarda il mondo della moto ogni settimana potrete infatti trovare un nuovo video nel quale parleremo di un nuovo argomento nel modo più semplice e dettagliato possibile inizieremo con i temi base e settimana dopo settimana andremo a trattare argomenti sempre più complessi e specifici se durante la visione del video avete qualche domanda lasciate un commento qui sotto vi risponderemo e perché no il vostro intervento potrebbe diventare un ottimo spunto per un nuovo argomento al quale non avevamo ancora pensato ma che potrebbe interessare anche altri tempi non mi resta che salutarvi ringraziandovi per aver guardato questo video consigliandovi di iscrivervi se ancora non l'avete fatto al mio canale di visitare il sito cliccando il link in descrizione e di seguire race mode anche su facebook e su instagram a presto ciao